Vivevano all'interno dell'area dell'ex mattatoio, tra rifiuti, immondizia e tra i loro escrementi. Per questo un albanese ed un rumeno sono stati denunciati dalla polizia per invasione di suolo pubblico. Il controllo è stato effettuato questa mattina e da questo è emerso che i due, non avendo un lavoro, vivevano di espiedienti illeciti, in particolare di furti nelle abitazioni. L'albanese, essendo colpito da ordine specifico, è stato espulso ed accompagnato fuori dai confini italiani. Stessa sorte era toccata alcune settimane fa da altri extracomunitari nel corso di un controllo analogo degli agenti del commissariato locale. Gli stranieri però, ancora una volta, hanno aperto i sigilli messi dal comune di Fano per trovare un punto in cui rifugiarsi. Con buone probabilità la zona, finché non verrà trovata una soluzione definitiva e verrà chiusa del tutto, rimarrà luogo di ritrovo e rifugio per senza tetto.